Questa è Canale Europa, la grande piattaforma su internet italiana. E continuiamo a parlare di energia, naturalmente con Zuccato Energia. Io ho il piacere di essere qui con il titolare di Zuccato Energia, dottor Alessandro Zuccato. Allora, intanto è un piacere, grazie per averci ricevuti, stare qui nel tuo stand. Comincio subito con il chiederti di cosa vi occupate per chi non dovesse conoscervi. Noi ci occupiamo del recupero termico e cinetico dell'energia oggi non utilizzata nei processi industriali e nei processi anche oil and gas. Quindi con l'energia termica, per esempio, parliamo di tutto il calore che viene sprigionato dai forni fusori, per esempio nel settore del vetro, piuttosto che nel settore dell'acciaio, dell'alluminio o della ceramica o del cemento. Quindi i fumi che vediamo uscire dai camini spesso hanno delle temperature abbastanza elevate e quindi in questa maniera noi andiamo a recuperare questo calore trasformandolo in energia elettrica che possiamo dire energia pulita, perché vengo a realizzarla da qualcosa che oggi sto buttando via. La stessa cosa vale per l'energia cinetica. Quindi per esempio nel settore del gas, del trasporto del gas, quello che ci arriva praticamente a domicilio, il gas viene trasportato da una rete nazionale e anche locale ad alta pressione, tante volte 40-50 bar, però poi viene distribuita alla unità produttiva, industria piuttosto che alle case, a una pressione molto più bassa. Oggi questo salto pressorio viene fatto utilizzando delle valvole meccaniche. Quello che noi proponiamo è invece di utilizzare questo salto pressorio per fare girare una turbina. Quindi noi facciamo lo stesso lavoro della valvola meccanica ma producendo corrente elettrica. Anche questa è energia pulita, perché oggi stiamo sprecandola semplicemente mettendo una valvola meccanica. Quindi quello che noi facciamo è proporre queste cose alle industrie e anche ai grandi distributori nazionali e locali del gas per poter produrre energia pulita da qualcosa che oggi viene sprecato. In particolare io volevo anche sottolineare quello che facciamo innovativo nel settore dell'oil and gas. Si tratta di questo. Allora voi avete presente, quando si vedono anche le immagini dei pozzi petroliferi, vediamo molto spesso queste fiaccole che bruciano del gas che normalmente viene estratto assieme al petrolio. e questa è energia sprecata. Allora che cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo già realizzati tre dipianti, in questo caso in Messico. Ecco, scusa Alessandro, questa foto che noi abbiamo alle spalle è l'esempio reale di una loro operazione in Messico. Vengo di qui, anzi ti lascio il microfono. Sì, grazie. Allora, qui vedete praticamente questo è un pozzo petrolifero in Messico dove è stato sostituito il tradizionale flaring, cioè la fiaccola aperta che brucia il gas in esubero in aria, con un sistema chiuso. Questo si chiama on-ground flaring, cioè una sorta di combustore chiuso. Il vantaggio di questo combustore chiuso è che i gas qui vengono veramente bruciati in modo totale, quindi in atmosfera non ci sono inquinanti, perché quando la fiaccola brucia direttamente in aria ci sono molti residui chimici che vanno in atmosfera e sono anche componenti rischiosi per la salute. In questo caso invece il 99,5% di tutte quante le sostanze nocive vengono eliminate e il calore che viene prodotto all'interno di questo combustore viene poi portato a uno scambiatore, convogliato a uno scambiatore, qui viene prodotta acqua surriscaldata che va al nostro sistema ORC, alla nostra turbina, per produrre energia elettrica. In questo caso il sito può lavorare con la corrente elettrica che si autoproduce da quello che prima stava sprecando e quindi non andiamo a bruciare dell'altro combustibile fossile che può essere per esempio petrolio, diesel, carburante per generare la corrente in questo sito, ma andiamo a autogenerarci la corrente per far funzionare le pompe e qualsiasi altra cosa serva. E questa è una bella applicazione, ci sono nel mondo decine di migliaia di siti dove potrebbe essere inserita e rende più pulito se vogliamo anche questo tipo di attività. Significato ha per voi essere qui oggi in questa edizione di questo salone? È la prima volta che noi siamo presenti, lo siamo proprio perché abbiamo visto che nel settore delle raffinerie e nel settore dell'oil and gas queste nostre tecnologie possono portare veramente dell'efficienza nei loro processi. Vedo che nel settore c'è sempre più attenzione a questo recupero energetico e quindi speriamo, essendo qui, di essere notati anche dai player del settore e che poi ci possano chiedere di fare dei progetti per loro e di applicarli come per esempio è stato fatto in Messico ma anche nelle raffinerie italiane dove si può recuperare energia termica dal processo di raffinazione. Ringrazio naturalmente Zuccatto Energia, avete visto anche in questo caso l'atteggiamento e l'importanza sul fare rete, fare squadra proprio per la problematica e l'emergenza di cui oggi siamo tutti vittime e ringrazio naturalmente anche per il suo essere stato così esaustivo Alessandro Zuccatto, titolare naturalmente dell'azienda per essere stato con noi. Grazie. Grazie a te. Grazie.